La voce di padre Paolo nell'inno di ringraziamento dopo la comunione oggi sembra più intensa. Oggi che ricorre il suo compleanno, 66 anni, tanti ne sono passati da quel 17 novembre del 1954 in cui ha visto la luce, 2665 giorni invece e il tempo passato dal sequestro da quel 29 luglio 2013. La sera prima, queste le immagini dell'ultima uscita pubblica, padre Paolo, il gesuita che ha speso più di 30 anni in Siria, parla agli studenti riuniti in piazza Arracca esortandoli alla speranza e alla libertà. Troppo scomoda la sua voce quando arrivò a chiedere perfino all'ONU il rispetto delle libertà calpestate, tanto da essere espulso. Non avrei creduto che l'esilio fosse così amaro. In questo compleanno la sorella Francesca torna a chiedere verità sulla sua scomparsa, perché vuol dire non solo individuare le responsabilità, dice, ma anche gettare basi per la pacificazione, col pensiero agli ultimi sequestrati tornati a casa, da Silvia Romano a padre Luigi Maccalli, che tengono viva la speranza. Anche se prima ancora di un auspicato ritorno c'è un augurio di buon compleanno, padre Paolo, ancora più bello, quello di restare fedele alla propria vocazione, come lui stesso raccontava. Io posso dire e ringraziare i miei genitori per una testimonianza di fedeltà e di coerenza che continua fino ad oggi.